Siamo nel quartiere di Melara, alla Spezia, dietro le mie spalle la centrale Eugenio Montale, la centrale Enel che entro tre, massimo cinque anni, verrà chiusa. Siamo venuti qui per parlare, per incontrare i cittadini e per capire quanto ne sanno di questa dismissione e che cosa sperano per il futuro di quest'area e di questo quartiere. Volevo chiedere, lei lo sa che tra pochi anni la centrale Enel della Spezia chiuderà, è informato? Lo spero, sono già tanti anni che lo vediamo, se si sa chiuderla, ma è sempre lì. Speriamo presto. Avete avuto dei problemi, dei disagi? Vediamo che specialmente nelle giornate dove c'è nuvolosità butta fuori parecchio fumo. e non condensa, come dicono, ma fumo nero che si confonde con... Sì, lo sapevo, l'avevo sentito dire, sarebbe ora. È contento, le dispiace? Sì, nel senso a livello ambientale. Vi ha creato qualche disagio la centrale? Io mi ricordo che i primi anni che sono venuti a capitare qua cascavano tanti ceneri, ora non più. Mio nonno è morto di tumore e so che è un po' di gente anche qua intorno, infatti c'era un po' l'idea di fare un po' un'indagine e capire quanti sono morti di tumore. Mi dispiace per chi ovviamente ci lavora, però dal punto di vista ambientale crea dei disagi. So che qualcuno si lamenta, problemi saranno i posti di lavoro. Cosa le piacerebbe che sorgesse magari in questa area? Eh, qualcosa per i giovani, qualcosa per i giovani o aziende o qualcosa che possa dare da loro, perché veramente si ammissi male. È qualcosa che non fosse così inquinante, insomma, qualsiasi cosa. Però qualche cosa di diverso, delle energie alternative che sicuramente farebbero meglio. Io ho sentito parlare di un campo sportivo, non lo so, perlomeno quello ho sentito parlare. Ti piacerebbe? Oh, sempre meglio che la centrale lo è, no? Vorrei che sorgesse qualche posto per i nostri ragazzi, però non lo so, speriamo. L'industria delle energie pulite potrebbe essere una soluzione, essendo che è area industriale, quindi... Beh, energie pulite mi sembra la soluzione migliore. Parlavano di un parco giochi, ma non so se la notizia è vera. Potrebbe essere una soluzione, sarebbe carino. No, 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 no.